oggi andremo a giocare un classico dei classici dei cabinati da bar quindi io penso di aver frequentato 1.000 3.000 100.000 sale giochi 100.000 bar e questo gioco c'era dappertutto anche nei peggiori bar de caracas pensate il gioco in questione cadillac and dinosaurs lasciando perdere la pronuncia che sicuramente un po è maccheronica andiamo passiamo andiamo a giocare selezionando il nostro bel personaggio giochiamo con lei la patata non scegliamo sempre quella tra l'altro dato che non ne vediamo mai almeno la scegliamo nei giochi classica avventura picchia duro a scorrimento orizzontale verticale diagonale perché fondamentalmente agisci su uno spazio in 3d in tre dimensioni quindi possiamo andare sia su avanti sinistra e destra a differenza di altri classici che poi andare soltanto avanti o dietro al massimo salivi ogni tanto così perché piaceva questo gioco perché a parte ecco i panzoni che danno le culate a terra ma perché aveva la possibilità di prendere attenzione prendere a cazzotti dinosauri cioè ma davvero ne stanno a parlare c'è bisogno di parlarne scusate quindi adesso andiamo a affrontare il primo boss sì se magari scendi mi fa una cortesia vabbè questo c'ha il veloci raptor così lasciato lasciato libero noi prendiamo a ginocchiare tutti insieme a questo infame fracico ok paio di schiaffi un paio di cazzotti salta a vuoto come matto salta come vega di street fighter guardate salta come un pazzo addolorato attenzione pure i ciccioni saltano ecco fatto sì sono una gentil donzela lasciatemi perdere attenzione bazzucate è vero perché quando morire poi c'era la super bazzucata o guarda come carica questo ok tanto ammazziamo il ciccione ammazziamo quest'altro con la guardia alzata barretta di cioccolato attenzione super granata ok morto niente la granata non si può utilizzare io la riprendo niente lasciatemi il terra affanculo nella giungla attenzione non ti c'era dopo matto così o io ti spacco le corna a te eh non è che può far matto così eh cazzo oh attenzione super mitra te eh guarda un po' ah un uzi minchia è grosso quanto tipo un m16 vabbè un uzi questo ma questo forse è meglio non svegliarlo ma invece io lo gli do oh tu ti fai cazzi tua però eh ammermaledetto qua che c'è del cibo oh attenzione il tizio con la catena te te piazza a cagnate oh mica madonna riprendo il coltellino oh grande oh sto giro gliel'ho tirato invece questo qui mi farebbe comodo eh beh lo devo per forza tirare qua mi serve un bel fucile non riesco ad ottenerlo vabbè andiamo avanti eh go 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 eh qua sto eh no questo l'ha macellato attenzione la manna oh che cazzo ti ridi oddio butcher che era il macellaio se non ricordo male vaffanculo mi hanno ammazzato ah no attenzione sto così al limite mamma mia risupe riflessi te mamma mia c'ho la forza di un criceto porca troia maledetta bastarda attenzione gioco con mustafa cambiamo personaggio matto col bazooka imbocchi così te oh per bazooka me lascio scusa eh te un'altra bazooka no maledetto non ci ho fatto caso vaffanculo perché mi addormento tacci tua devi morire devi morire eh non muore oh si se magari vado avanti e non faccio il coglione ah cristo santo me prendo il macete il marraccio come si dice qua salto mortale all'indietro backflip così matto dov'ho vita io? tacci tua te ma guarda ma quanto so forte ah non te bello ficco tutti sotto cazzo pure questi cogliamori non è che dopo mi chiami ai guardi perché fanno il cheat eh dite tampono vaffanculo cazzo la macchina come sta ridotta male no 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 liscio no cazzo ma un vestito pieno ciccio tu cazzo vai ma dove vai? no ma ha preso figura di merda no liscio cazzo c'ho il pompa e approfitto del pompa e approfitto del pompa cazzo oh c'ho la bomba e te la tiro addosso tacci tua ecco fatto ho dovuto sprecare il corpo così tacci tu oh tacci vostra oh tacci tua spallata maledetta coppa coppa gelato grande si se magari evito di sparare indietro oh e sto a correre io ok questo è il tizio che inserisce a prende perché è matto anche se non lo dà a vedere è mezzo matto questo ecco demonizioni prima che lo prendo tipo psychomantis so cazzo anzi no attenzione cioè lo sto prendendo senza problemi mi ricordo non l'ho mai preso questo e c'ho i cittativi per caso non si sa cioè non mi sta creando alcun problema ecco fatto mazza ho parlato che liscio macci tua oh le lame boomerang attenzione affanculo porco demonio ho visto che era un boomerang però mi sono scordato a sto giro cambio e prendo il super coattissimo ma quanto è grosso è lento quanto un corpo però è forte perché lui è forte e cazzuro si è dimenticato di andare in palestra a fare la giornata delle gambe perché lui sopra è grosso ma sotto è sembra tipo un pollo o un supplico le gambe insomma ah ma chi abita fuori Roma non sa nemmeno che cos'è un supplico ho sicuro te è un cazzotto in bocca gli ho frantumato le mucose e gli dicevo arzate cornuto arzate gli ho detto attenzione pure poterlo dattilo facciamo un ripasso di di storia dei dinosauri ecco guarda come faccio un cazzare questo dalla parte gli è meno dalla parte delle corna ma do cazzo vai ciccio oh cazzo non mi devi mozzicare così però oh un'arma da fuoco no tanto questi sono i gettoni che entrano proseguo con Jack ciao ragazzi sono Jack ciao il bazooka e oggi giocheremo a Cadillac and Dinosaurus beh si per andare avanti questo ma dov'hai oh che fai getti le bombe come i maledetti ah questo qui è quello scarso però c'ha il mitra se la sente calda perché lui lunga gittata giustamente c'ha il fisico del suo allevatore di polemiche quindi lui giusto con le armi può andare avanti tacci tu oh vaffanculo ah un paio di cazzotti è morto vaffanculo annaggia continuo c'è Arbazuga no liscio preso questo giro l'ho preso amico mio dai Morgan che t'ho quasi fottuto oh no alle spalle come proprio l'ultimo di infami maledetto dammi tempo cioè che cazzo stai a fa e vaffanculo un po' maledetto oh attenzione guarda che capoccione che gli è diventato tra l'altro si è pure pure mezzo pallido l'avanti di capoccia questo sa la fuma sempre detto che il fumo fa male questo qui l'avanti di testa chi sei? Zidane scusate ok c'ho il mira super carico c'ho il mitra super carico attenzione questo è avanti di testa tanto non lo faccio caricare oh te t'ho lanciato vaffanculo ok no come serve un'altra arma se no il tizio mi rompe il culo vaffanculo attestate che cazzo di fronte c'hai probabilmente è un gioco che ci stanno tattiche anche se l'intelligenza artificiale è quella c'è sto boss c'ha tipo due schemi vai in su vai in giù a destra e a sinistra e tu iemeni fatta andiamo avanti per cortesia attenzione là c'è la faccia del t-rex che si sta impicciando dei cazzi nostri ci vede combattere non interviene attenzione blanca per due oh piano e la fai avvenire avanti tacci tu hai venuto avanti e mi ha rotto pure il culo oh piano devi fare piano però devi fare piano prosegue e andiamo con la bella ragazzetta andiamo basta con questi omaggi minchia fatta a pezzi che è successo qua oh gesù mio sto qui se non sbaglio è quello che mo sei in possesso ad 897 persone schiaffetto così un po' quanto è agile questa si faccio i danni di topogigio però vabbè almeno ok ho giocato malissimo il coltello uh che c'ha io ma che c'ha a posto d'ovo sterno questo qui è più matto un po' quanto è rosso pure incazzato questo ok sempre dallo sterno o lo fai uscire dall'altra parte gli aculei ecco fatto lancia le palle di fuoco non me lo ricordavo oh quanti ne siete quanti ne siete ok oh col calcio del fucile tacci tua ci sua con ste palle di fuoco dagli che secondo l'ho ammazzato forse ci sarà pure un terzo un po' se ci sarà pure un terzo questo dovrebbe essere il terzo che oh che cosa lanci del schifoso maledetto dovrebbe essere il terzo boss l'ultimo in teoria oh non mi ricordo sinceramente io ricordo vago di questi livelli però non 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 ho la memoria veramente di merda non mi ricordo nulla oh dammi una zaccagnata due ma non tre cavolo vaffanculo questi che entrano con ste spallate sistemiamoci gli occhiali per un ipotetico quarto incontro no santo cielo no grazie attenzione suplex non mi dico fare su oh voglio fare suplex no grande il mega suplex che cazzo ho fatto ah ho lanciato la granata e poi sono partito così come un pazzo vaffanculo con sta palla e vabbè io vado via 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 no blanca no te se ma il dottore come sa ride là matto vabbè sei impazzito del tutto ha sbroccato questo qui il dottore pazzo ha sbroccato completamente se no cioè una cosa del genere non la facevi questa modifica del dna umano con quelli con quello dei dinosauri cioè tu sei mezzo matto no ho bazookata no sto sprecando i colpi del bazooka oh attenzione forse li ho presi li ho presi li ho presi ma guarda che liscio guarda che liscio non ne ho preso uno vaffanculo attenzione che sto affrontando il boss mi stavo aspettando e verrai servito a suon di cazzotti oh 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 ma un po' che testa che c'ha questo se te pia ti fa male mamma mia liscio oh porca troia questo è il fratello di zidane il fratello più grande di zidane dai ebbè dai oh quanto è grosso è pure schifoso sì la forza del dinosauro e l'intelligenza di questo matto è diventato uno schifo bestiale ricorda un po' uno schifo presente in splatter house non so se vi ricordate splatter house cazzo finalmente vedrò la fine di questo gioco ci ho speso 900 mila lire da bambino non ho mai visto la fine ed ecco la fine avrò speso adesso roba tipo 60 70 euro per finirlo e l'ho finito finalmente ho finito un classico dei classici dei videogiochi del passato attenzione dov'è che arranchi ciccio vabbè non mi sta più a per culo cioè noi ti spacchiamo tutte le ossa ah ok un po' di frattaglie un po' di schifezze noi rimaniamo là così e è sparito ah ok il laboratorio sta esplodendo noi dobbiamo fuggire ah non è finito qua si che è finito qua non mi fa comandare nulla e beh le donne queste donne sempre le ultime di la verità Jack che te stai scopando di la verità che hai sfruttato attenzione morti no ma che cazzo stai a dire no quanto ci sono rimasto male attenzione finale amaro di questo gioco dal deserto fino a new york a piedi ma matti eccoli con la super cadillac modificata tra l'altro lei c'ha capelli al vento e stanno andando a due chilometri orari cioè eguagliano in velocità ah ecco adesso già c'ha senso grazie a voi per aver visto questo video vi aspetto alla prossima come sempre bella a Grazie a tutti.